salve a tutti amici e amiche il video di oggi è stato proposto da calcio mercato non è uno sponsor e non è neanche una rivista ma è il nome di un signore qui su youtube che mi ha chiesto mi piacerebbe che analizzassi altre navi oltre a contenuti di aviazione che sono sempre validi ad esempio per restare in tema i quattro incrociatori nucleari russi e tutti i misteri della loro operatività allora calcio mercato grazie per la fiducia premetto che a parlare di unità navali non è proprio il mio forte seppure un argomento che mi piace non sono così ferrato come sui temi di aviazione sicuramente da fuori ci sono canali migliori del mio però ecco avendo a disposizione qualche informazione su questa unità e mettendo insieme anche altre notizie che ho trovato in rete proverò a realizzarlo comunque per il resto come sempre se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale qui in basso a sinistra c'è il pulsantino per farlo è di grande aiuto e mi permette di continuare a lavorare a questa iniziativa poi se avete proposte potete scriverle nei commenti e nei limiti del possibile cercherò di accontentarvi bene l'argomento di oggi di queste unità di grandi incrociatori misilistici russi è piuttosto interessante come si può non riconoscere il fascino di queste enormi unità che solcano il mare aperto e incutono rispetto nelle marine di tutto il mondo ma come tutti sanno il tempo delle corazzate e delle grandi navi da battaglia è finito almeno dal momento in cui sono apparse le grandi portaerei e il potere aereo in generale che sia in europa ma soprattutto nel pacifico ha dimostrato la vulnerabilità delle grandi navi se prese di mira dall'aviazione e questo non lo dico io dato che l'unica corazzata sopravvissuta alla seconda guerra mondiale è stata la missouri americana tutte le altre sono una lunga lista di come bombe siluri tutti lanciati daerei hanno evidenziato il concetto molto semplice per cui più la nave è grande più grande sarà il botto che farà e più grande sarà il relitto in fondo all'oceano quindi il tempo delle supernavi da battaglia e delle corazzate e dei dreadnought è finito forse no cioè la russia negli anni 70 ha sorpreso tutto il mondo proprio con la realizzazione di una classe di navi che per stazza e armamento si avvicinava molto a quei numeri di un tempo il cui concetto di costruzione era più grande più armata più corazzata questi incrociatori russi realizzati al culmine della guerra fredda e dall'ex unione sovietica con lunghezze nell'ordine di 250 metri e dal dislocamento di 28 mila tonnellate sono numeri che per intenderci non si vedevano dai tempi della corazzata tedesca bismarck il progetto 1114 orlan che in russo suonerebbe un po come sea eagle cioè aquila marina in italiano avrebbe portato alla classe di navi kirov e prendeva forma nel 1974 presso i cantieri navali di leningrado la prima nave fu varata nel 1977 ed entrava in servizio nel 1980 gli osservatori internazionali della nato all'epoca la soprannominarono balcom che significava combattente del malbattico si mostrava come una nave da battaglia a propulsione nucleare capace di equipaggiarsi di più di 200 missili fra quelli di attacco e difesa e sulla carta una nave in grado di fronteggiare da sola un intero gruppo navale americano e le sue portaerei non a caso la realizzazione di queste navi fu una sorta di risposta ai sottomarini di classe benjamin franklin entrati in servizio nel 1965 e che spaventarono un poco l'unione sovietica la classe kirov in teoria poi era pensata per combattere su tutti i livelli con capacità missilistiche anti aeree anti nave e anti sottomarino il progetto orlan così ebbe la precedenza su molti altri assimilando moltissime risorse preziose del resto per chi ha dimestichezza con la storia proprio alla fine degli anni settanta il mondo era al culmine della guerra fredda e di una corsa agli armamenti senza precedenti con un vero e proprio botta e risposta fra unione sovietica e stati uniti la prima che cercava di rivaleggiare anche in altri settori come per esempio quello spaziale andando a costruire per esempio un interessantissimo progetto come il vettore energia e la sua risposta all'sts lo space shuttle americano con il buran progetto molto interessante su cui mi piacerebbe poi tornarci in futuro così per quanto riguarda lo sviluppo dei sottomarini nucleari in quegli anni russi tireranno fuori dal cilindro i più veloci e più grandi sottomarini mai realizzati nella storia umana la classe kirov sarebbe stata equipaggiata con due nuovi reattori nucleari e una soluzione mista con motori aggiuntivi anche a nafta per così ottenere una velocità media con i reattori nucleari e una velocità di punta di 32 nodi con l'aiuto dei motori convenzionali i motori nucleari permettevano così all'unità una velocità di 20 nodi autonomia quasi illimitata cioè dettata per lo più dalla necessità dei rifornimenti di viveri e l'avvicendamento dell'equipaggio di 710 marinai a bordo ma a questo punto vi sarete chiesti ma perché la classe kirov fu pensata per essere così grande per rispondere a questa domanda ragioniamo un attimo al contrario perché tutte le altre marine del mondo hanno abbandonato questa idea la risposta è semplice le grandi navi sono vulnerabili come ho detto prima soprattutto agli attacchi aerei e poi c'è anche un altro discorso non meno importante più grande la nave più ha bisogno di munizioni manutenzione personale e denaro e tutto questo se pensiamo che rischia di finire presto in demolizione se non su un fondo del mare ci dà un'idea che forse costruire grandi navi da battaglia alla fine non conviene quindi è per questo che piuttosto che costruire una enorme nave da battaglia una nazione può costruire al suo posto sei unità più piccole cacciator pedinieri unità di supporto e via così che hanno costi minori sono più versatili e ne hai di più avere più navi da anche più possibili possibilità di sopravvivenza a tutta la flotta poi perché appunto se ne hai solo una perduta quella hai finito no però però c'è anche da dire che la classe kirov a differenza delle grandi corazzate del passato non è così vulnerabile agli attacchi aerei cioè avendo potenti radar e missili non occorre il rischio di subire un attacco aereo devastante come per esempio quello che ha subito la yamato quindi questa capacità antiaerea della kirov affiancata a radar di scoperta relativamente moderni magari per i vertici russi dell'epoca giustificava il costo di produzione e la soluzione poche ma grandi l'arsenale di queste classi di navi è imponente anticipo che furono realizzate quattro navi di cinque ordinate che avevano delle piccole differenze soprattutto nei numeri del munizionamento quindi farò una media partendo dalla capacità offensiva queste unità avevano 20 missili antinave supersonici p 700 granit più armamento fisso costituito da una torretta abbinata a k 130 appunto da 130 mm e 2 a h a k 100 da 100 mm 8 gatlin a k 630 da 30 mm e 6 torrette automatiche difensive cortic per l'attacco ai sottomarini disponevano di 32 lanciacariche di profondità anti sottomarino e anti siluro 18 tubi lancia siluri e poi passiamo al sistema difensivo con una soluzione fino a 96 missili s 300 fm sulla ukasov lazarev e nakimov e 48 per la velica missili con prevalente capacità antiaerea lungo raggio oppure antimissili cruise e poi fino a 64 sa 9 sistemi antimissile e antiaerei per la difesa di punto a cortissimo raggio questi lanciatori dotati di cingoli su terra ferma prendono il nome di tor che hanno una guida radar e televisiva e poi 40 sa 3 anche questi per la difesa a corto raggio oltre a questo questa classe di navi ha un hangar poppa annegato che può ospira ospitare tre elicotteri con capacità anti sottomarino e di attacco al suolo è una blindatura da 76 mm attorno ai reattori nucleari per supportare questo enorme arsenale di missili la classe kirov dispone di due sistemi radar di controllo del tiro vocode mr 800 top pair è un radar 3d forme sat questo rada insomma consentiva di avere una visualizzazione tridimensionale dell'area intorno alla nave e poi un radar fregat mr 710 top plate anche questo radar 3d due radar la navigazione più impianti sonar è un sistema di controllo leso rub 44 per il combattimento coadiuvato con un data link per l'utilizzo di contromisure elettroniche spero che nessun russo guarderà mai questo video perché tipo la mia capacità di pronuncia del russo fa pena sotto ogni punto di vista comunque questi sono i numeri di questa classe di nave quindi si capisce che stiamo parlando di un arsenale mostruoso all'interno della nave per questo appunto è così grande come ho anticipato ne furono ordinate 5 ma solo 4 poi furono realizzate in ordine di entrata in servizio la admiral usakov che tra l'altro era ex kirov entrata in servizio nel 1980 e poi radiata nel 2002 la admiral lazarev entrata in servizio nel 1984 e radiata nel 1997 la admiral nakimov 1988 è oggi in fase di ammodernamento in un cantiere da più di un decennio e la valichi entrata in servizio nel 1998 ed è l'unica attiva in questo momento vabbè poi c'è la mai realizzata admiral flota kuznekov che sarebbe dovuta entrare in servizio nel 1990 ma con il collasso dell'unione sovietica poi fu abbandonata queste unità con dei costi esorbitanti di produzione e di esercizio dovendo avere tutte le capacità anti aeree anti nave anti sottomarine era chiaro che rappresentavano un investimento a lungo termine per la russia per i scenari della guerra fredda di quel momento e non solo per i futuri decenni a venire per le guerre future in particolare in particolare il loro compito sulla carta doveva essere quello di proteggere le super portaerei russe e di tenere a bada la flotta di sottomarini americani e scongiurare un escalation della guerra fredda in teoria perdonatemi ho fatto di nuovo ho usato il termine escalation maledetti telegiornali italiani ma non è più semplice dire un'esasperazione del conflitto quindi a parte gli scherzi in sostanza la classe kirov avrebbe dovuto rappresentare la punta di diamante della flotta russa e oltre a questo nelle aspirazioni dell'unione sovietica sulla base progettuale del suo scafo si sarebbe dovuta costruire anche una super carrier per integrare le capacità della flotta con un'aviazione e perché come molti sanno la admiral kuzneskov non è mai stata una vera portaerei cioè la attuale portaeri russa soprattutto si è dimostrata continuamente afflitta da enormi problemi progettuali che non sono mai stati risolti in sostanza all'apice della guerra fredda l'unione sovietica aspirava ad essere alla pari con la flotta americana ma come sappiamo le porterie nucleari russe non sono mai arrivate di conseguenza le navi di classe kirov hanno perso importanza hanno sì preso in prestito il ruolo di ammiraglie insieme a navi come la moscava nel mar nero per esempio su quest'ultima vi passo il link in descrizione per il video che ho realizzato due giorni fa proprio e che la riguarda ma appunto se l'idea di questa classe di navi fosse quella fosse stata quella di supportare e scortare le grandi portaerei che però non sono mai arrivate gli stessi vertici della marina iniziarono a ridimensionare il programma e come ho detto poco fa le unità iniziarono lentamente ad essere radiate di fatto di queste di queste quattro oggi in navigazione ne resta solo una attiva però al di là del fallimento dell'unione sovietica e della lenta agonia del programma qualche impatto sugli assetti geopolitici mondiali queste navi lo hanno avuto tanto che leggendo sui vari siti che ho trovato tutti sostengono che in risposta a queste navi gli stati uniti valutarono e poi decisero di rimettere in servizio temporaneo le vecchie corazzate di classe aiova aggiornandole al lancio di missili cruise e c'è una conferma di questo infatti non a caso la missuri un vecchio cimelio della seconda guerra mondiale ha partecipato proprio in questo ruolo di lancio a missili nella prima guerra del golfo ma al di là di questo poiché l'unione sovietica collassava e in quel momento storico la guerra fredda si stemperava alla fine le quattro navi di classe kirov furono relegate al semplice ruolo di sorveglianza costiera esercitazioni e rappresentanza politica quindi con il venir meno della ragione della loro esistenza senza port super portaerei da scortare senza una guerra reale da affrontare la leader leadership post sovietica decise di radiarle progressivamente in favore di navi più moderne e più piccole e a questo punto voi direte ma allora alla fine anche i russi ci sono arrivati al concetto che conviene fare navi più piccole e in quantità no in ogni caso la prima nave a uscire in mare la kirov subì un incidente al reattore nucleare e badate bene mentre si trovava in navigazione nel mediterraneo nel 1990 non ci furono vittime e per fortuna nessuna conseguenza per il mare nostrum ma di fatto questa unità non fu più non fu più riparata anche perché nel 1990 come si sa l'unione sovietica collassava anche per ragioni economiche nel 2004 l'ultima nave ad uscire dai cantieri di leningrado è la più moderna se vogliamo che è l'unica oggi ad essere ancora attiva la pirtro velichi veniva descritta dal comandante in capo della marina russa come sull'orlo di un'esplosione del suo reattore nucleare e che questo si trovava in pessime condizioni a causa della scarsa manutenzione voglio dire io non sono un fisico nucleare però credo che tutti converrete con me che in generale i reattori nucleari sono molto vantaggiosi perché permettono energia illimitata no però ecco l'altra faccia della medaglia è che non basta una chiave inglese e un po di grasso per tenerli in ordine no che questi hanno proprio una cattiva nomea se trascurati in ogni caso questa unità ha rappresentato la marina russa per decenni presentandosi davanti alle coste di varie nazioni e ostentando la forza della marina russa ha anche avuto un piccolo impiego operativo diciamo così davanti alle coste della somalia nel preludio di quella che oggi definiamo la pirateria delle milizie uti però ecco se pensiamo all'impiego di questo colosso del mare contro un gommone di pirati magari ecco è un filino esagerato fatto sta che queste navi teoricamente valide si sono trasformate presto in una vera e propria sanguisuga per i fondi e le risorse russe e come ho detto considerati gli scenari internazionali un nemico storico come quello degli stati uniti che non era minimamente intenzionato a invadere la russia via mare l'assenza di superportaerei da scortare e il fatto che per intervenire in operazioni antipirateria era completamente inutile usare un'unità di questo tipo insomma le navi di classe kirov si rilevarono un fallimento e iniziarono a venire decommissionate ed è esattamente come è avvenuto per la flotta di sottomarini cioè se non hai i soldi per tenerli in mare decidi di tenerli alla fonda ma questo comunque non evita il loro lento deterioramento le esigenze di manutenzione e i costi si tratta quindi di come di un cane che si morde la coda e rimandare la demolizione dell'unità con vaghe ipotesi di riamodernamento non fa altro che continuare ad aumentare i costi di manutenzione e alla fine si raggiunge uno stallo per cui l'unità deve essere comunque abbandonata e demolita comunque così di quattro unità la prima subì danni irreparabili nel 1990 altri due di queste unità danni minori ma che si trasformarono per i motivi di qui sopra a spese insostenibili di riparazione e la velichi è l'unica attiva con il suo hardware di bordo che nel frattempo è invecchiato per i scenari del ventunesimo secolo la terza nave uscita dai cantieri la nakamov fu portata in cantiere per aggiornamenti nel 1999 per lavori di modernizzazione degli impianti e degli armamenti nel 2013 fu approvata la revisione completa affinché l'unità potesse reintegrarsi nella flotta questa decisione senza fare necessariamente dei salti di logica avventati avveniva giusto un anno prima dell'annessione della crimea da parte della russia e in un momento in cui molti osservatori internazionali vedevano chiari segnali che la russia voleva tornare a ostentare la propria forza militare al mondo i piani per l'aggiornamento della admiral nakamov prevedevano di sostituire i vecchi sistemi missilistici per lo più i vecchi p700 e p800 in favore degli zircon antinave e ipersonici che fra l'altro sono retrocompatibili con i lanciatori dei missili precedenti e poi i due sistemi di difesa antisottomarina come l'hotvet e una versione diciamo meno vecchia dell's 300 l's 400 con il fort m e i missili che sono missili con una migliore suite elettronica e supporto di guida radar e poi delle torrette panseer m che per certi versi sono simili ai tunguska ma montate su una torretta navale che combinano una posizione di artiglieria antiaerea a quattro lanciatori sulla carta tutte queste modifiche sono valide ma la nave doveva rientrare in servizio nel 2018 e ad oggi è ancora ferma in cantiere fra le altre cose lo scoppio della guerra in ucraina di certo non ha aiutato l'economia russa così come la perdita della moscov e di parecchie altre unità a causa di piccoli droni nel mar nero quindi diciamo che forse anche in virtù di queste perdite l'entusiasmo di rimettere in mare l'unità è un po svanito in ogni caso se questa nave tornerà in mare insieme alla sua gemella velichi lo farà in modo non lo sappiamo quando è in un mondo che nel frattempo è andato avanti e che i sottomarini contro cui queste navi erano state progettate per combattere in realtà oggi non esistono più ma in giro ci sono battelli decisamente più sofisticati perché vi lascio immaginare i salti tecnologici degli ultimi 30 anni e considerando che queste navi sono enormi rumorose calde non hanno nessuna possibilità di nascondersi in una guerra navale moderna cioè possono essere rilevate a distanze enormi da aerei unità di superficie sottomarini per non parlare delle tecnologie satellitari e poi c'è anche un discorso sui missili ipersonici e la loro reale efficacia che non preoccupa molto le moderne unità occidentali perché questi missili per ovvi principi della fisica non possono volare a velocità ipersoniche in bassa atmosfera quando si avvicinano al bersaglio quindi nel tratto finale vengono intercettati come tutti gli altri né più né meno e poi dico questo considerando solo i sistemi di difesa tradizionale come i sistemi antimissile e le torrette palanx occidentali che le famose gatling a canne rotanti le unità moderne occidentali possono tranquillamente dotarsi anche di armi a energia e a quel punto missili cruis ipersonici non fanno alcuna differenza sono sempre armi convenzionali che non reggono il confronto con un'arma istantanea a energia quindi ecco sì la classe kirov e suo tentativo di aggiornamento sembra comunque in ritardo un poco con i tempi visto appunto che nel frattempo il resto del mondo si sta dotando di railgun armi ad energia e missili con tecnologie ben superiori del semplice motore scrumjet il cui concetto esisteva già negli anni 60 quindi per ora non sappiamo se gli aggiornamenti della nakamov si concluderanno i costi erano proibitivi allora figuriamoci adesso con la guerra in corso e comunque l'utilità di questa nave resta limitata del resto non sembra neanche che la russia sia minimamente più interessata a costituire un analogo della super carrier americana a competere con la sua forza navale o di farlo in futuro in ogni caso questa classe di navi restano delle bellissime navi da un fascino molto vintage diciamo così e sicuramente con il suo armamento missilistico ancora un temibile retaggio di una guerra fredda che è sempre stata molto più calda di quello che si è mai creduto e questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi al canale come sempre un abbraccio alla prossima